Salvatore Parlato ha giurato ieri come assessore nel corso della seduta della Giunta Comunale. Il neo-assessore al bilancio ha preso il posto di Giuseppe Girlando, dimessosi per ragioni personali. Il mio obiettivo, ha detto Parlato, è quello di continuare l'opera di risanamento portata avanti da Girlando con il piano di riequilibrio finanziario. Sono consapevole, come tutti, del fatto che la situazione è complessa, ma se ho accettato la proposta del sindaco, è perché sono fiducioso che si possa giungere al termine della sindacatura con dei buoni risultati di bilancio, lavorando su una visione d'insieme della spesa dell'ente. Parlato, 43 anni, è nato a Lentini, ma è cresciuto a Sortino, si è laureato alla Cattolica di Milano ed è considerato, come riporta una nota del Comune, uno dei maggiori esperti di finanza locale.